Avvocato Di Maio, il sindaco del Deo in apertura di seduta per la prima volta ha fatto un'apertura abbastanza concreta alla minoranza di collaborazione, proponendo anche delle deleghe da dare. Una proposta che avete rispedito praticamente al mittente. Sì, abbiamo avuto questa proposta di collaborazione che in realtà ci è stata già fatta in altre occasioni e noi riteniamo che però, a differenza di come commentavi tu la cosa, non è concreta perché noi abbiamo ricevuto proprio questo, che in realtà questa amministrazione a parole è sempre disponibile a dare collaborazione, a rendersi disponibile. Ma nei fatti ho rilevato che ciò non è, non avviene mai. Tant'è che nelle ultime occasioni in cui io ho fatto personalmente delle proposte anche di delibere su argomenti di semplice e di comune interesse tipo il cassetto telematico per poter fare i consigli comunali, che era una cosa di buon senso. Questa amministrazione ha votato no, così come vota no a tutte le modifiche che noi chiediamo che è sempre rispetto ai PUC, rispetto ad altri argomenti all'ordine del gioco. Ora non si può in concreto quindi aderire a una richiesta di un'amministrazione che a chiacchiere vuole collaborazione ma di fatto in realtà vuole semplicemente persone che vadano a dire le stesse cose che dicono loro. Quando noi abbiamo una nostra autonomia riteniamo di dover svolgere un lavoro che è quello della minoranza, cioè fa proposte quando c'è da proporre, controlla l'operato della maggioranza e ne solleva le criticità, come è giusto che sia. Anzi, io ho sottolineato proprio questo aspetto al sindaco, che la nostra funzione critica rispetto a questa amministrazione è importante e loro dovrebbero apprezzare che ci sia questa voglia e questa criticità continua. cioè noi ci studiamo le carte, potremmo dire qua, come fanno molto spesso altri, senza neanche prendere visione degli atti e dei documenti e insomma non intervenire. Noi invece interveniamo, cerchiamo di dare suggerimenti, ci poniamo in modo problematico rispetto ai problemi e laddove ci è data l'occasione facciamo anche delle proposte. Purtroppo non abbiamo i voti per poter approvare le nostre proposte, tant'è che poi questa maggioranza che a chiacchiere si dice collaborativa, nei fatti, boccia proposte anche di buon senso. Purtroppo noi siamo e restiamo minoranza o opposizione di questo Paese, faremo il nostro dovere nell'interesse della comunità e questo ci spinge ad essere sempre maggiormente presenti. Non abbiamo interesse ad avere polture, non vogliamo dare che particolari, e noi ci interessa che il Paese vada nella giusta direzione e che questa amministrazione anzi abbia un cambio. Poi se questa amministrazione dovesse per un prossimo futuro dimostrare nei fatti una volontà, un atteggiamento diverso di apertura, trasparenza e correttezza nella gestione pubblica, nessuno mai voterà su una proposta dell'amministrazione corretta, seria e che è stata fatta all'interesse del Paese contro. Noi siamo un'amiranza disponibile e soprattutto responsabile. Grazie.